Mi porto a casa molte, molte cose, sono talmente tante che spiegarle ci vogliono dei giorni. Ma in buona sostanza, tradotto, mi porto a casa l'allineamento della mia persona, un arricchimento, un concentrato di gioia, amore, condivisione, unione, avventura, dove c'è un'esperienza magica, dove c'è un concentrato di emozioni che è difficile trovare, specialmente anche in viaggi normali o esperienze di qualsiasi tipo. Quindi direi che mi porto a casa un magaglio di gioia, di piacere e di tante grandi emozioni. Questa esperienza per me è stata straordinaria sotto molti profili. Considerando che appunto sono partito senza aspettative e me la sono goduta momento per momento, attimo per attimo, diciamo è stata una sorpresa continua, un arricchimento e comunque un'esplosione di gioia a ogni momento. Quindi mi ha permesso di vivere il qui e ora a livelli altissimi, con diciamo appunto emozioni senza confini, sia personalmente che a livello di gruppo in particolar modo. Prima di venire al corso mi sentivo in uno stato anche di apatia e comunque di vita ordinaria, dove qualsiasi cosa poteva darmi fastidio, non mi permetteva soprattutto di gestirla emozionalmente a un ottimo livello. Dopo questa esperienza è come se avessi risettato, posso entrare in un'altra dimensione, sono entrato in sintonia con me stesso e soprattutto la cosa straordinaria è che posso gestire in maniera spontanea e emozioni anche le situazioni più complesse. L'altro aspetto è che ho scoperto una parte di me remota che da tanto tempo non usciva, dove oltre ad aver fatto un corso di autostima accelerato ho scoperto laddove io posso essere, avere delle ottime qualità di problem solving. Quello che in questo momento per me è diventato normalità e che prima per me era impossibile è il fatto che quando ho un obiettivo chiaro, quando ho una visione chiara posso arrivare ovunque e non ho ostacoli che esistono di fronte a me. Appena torno a casa sarò in azione subito sui miei obiettivi di crescita, di vita, su tutte le aree, su tutti i fronti. In non parola sola, straordinario. Ciao Patti, io ti ringrazio tantissimo per quello che mi hai dato, che non apprezzo e soprattutto per la tua solarità, per la tua disponibilità, per quello che mi hai permesso di essere, per la magia di questo corso, per quello che sei tu e quello che hai permesso a tutti noi e soprattutto per le grandi sorprese che ci avete regalato. Grazie di cuore.